Ci sono le iniziative benefiche, ci sono le iniziative no profit, ci sono le iniziative che utilizzano lo stesso profitto facendolo rimanere tale per allargare a coloro che non ce la farebbero la sfera dei consumatori e degli utenti, quindi ha grandi prospettive in questa fase ed è importante che le abbia perché il mercato non è che se la passa bene nell'opinione pubblica di questi tempi e se c'è qualcosa che lo rilegittima lui può esserne solo grato. Grazie a tutti.